Sì Adesso sarà tornata anche la tigre Sicuramente E quello dando minchia è uscito E questi dando minchia sono usciti Aia Pezzo di schifo E sto coso? Ok Basta sembra l'evolta ma guarda Sì 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 E' lì pure i non morti Quella Appena detto Ma subisco danno da questo Sono un stronzo E becco danno Bene passiamo da casa tua Dopo quello che faremo a casa tua non lo so Avevo loccato l'altro ma ha dissuto l'altro Arti marziali 1 Rilassi un potente attacco di arti marziali che può infragegare la difesa del nemico consumando spirito Anche se l'ho quasi preso in quel posto però va bene lo stesso Madonna che le casse però Eh mister frezza qua non va bene eh No questo qua bastardo Fammi fare le robe Cadi Eh sono caduto io Non era mia intenzione però Confecendo il lito potrai impardonirti la bandiera battaglia del nemico Azzo Minchia Instoppable Eh vabbè oh Porco schifo che non mi ricordo come si fa a fare la pim pum pam stoppavo E mo Le bahastonate Mamma mia Ismuccio godimento Aia No qua l'ho piata un culo Mamma mia leader vendetta ottenuta Dammi qua Via sto schifo Meglio non cadere Meglio che non mi tolga sto sfizio Anche perché non mi chiamo Maurizio Sento che ci aspetta un perico Minchia umano Me ne sfiga te bro Questa zona qua Credo Credo Che non mi piazza tanto Ma proprio Ma io voglio togliermi No meglio che me la tolga dopo Siamo pronti per lì per la prima epica battaglia contro credo un boss Perché normalmente credo che quella zona qua O che salta fuori il mega bonsai che diventa gigante lì e fa robe strane Sicuramente mo va a finire male Eccala Ha stato bello amici Molto bello di fazza Molto caratterizzato Zhang Liang generale del popolo Madonna che siete buttati Si sarebbe buttato assai Aia L'unstoppable No che no io so I am not passato dietro lui Eh L'ho tentata L'ho tentata assai No Sì che io l'ho fatta proprio nel momento in cui l'ho fatta No No sono blocchito Aiuto Generale del popolo Con tanta tanta Perché mi si stanno scaricando le batterie del Perfetto 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 Perché è già da una mezz'oretta che non sento più La vibrazione Eh l'ho fatto Eh l'ho fatto Perché qualcosa lì si va a carica No ho sbagliato No ho sbagliato un'altra volta Ragazzo non ti fa colpire Solo io potrei colpire Ovviamente con la spada E tutto l'allenamento Si è chiaro Pezzo di fango Sei uno stronzo Eh ma va spezzato tutto No più che altro Quando fa l'attacco Questo Devo scherzare B Nell'esatto momento E io riesco a passargli dietro E evitare che mi colpisca Solo che bisogna avere proprio una Una reazione al millisecondo Tipo le partenze di quelli di Formula 1 Ecco Per intendersi Devo scherzare B proprio nel momento giusto Che gli passo dietro e riesco a A colpirlo Allora ragazzi facciamo l'ultimo tentativo Tanto come ho detto La demo questa Proprio precisissimi La demo questa Sono i primi due capitoli del gioco Quindi per dire Se non sbaglio Se io poi quando venerdì prossimo Esce il gioco completo Ripartirei da qua Ecco Salto l'inizio La parte iniziale Perché devo capire bene gli orari Dove essere disponibile da venerdì E invece è stata disponibile A questa cosa qua Da Stamattina Quindi credo Che alla fine Il gioco Possa giocarlo Ancora Lunedì pomeriggio Non ne sono sicuro Però Io lunedì pomeriggio Guardo Se è ancora disponibile Lunedì pomeriggio Ci do ancora una prova Altrimenti Vabbè Tanto Ammazzate Altrimenti venerdì prossimo Andiamo avanti Ecco Ah Non fai più lo sgazzo Eh Mannazza Vai ragazzo Dagli occhi Bellissimamente blu No E quanto Io ho rotto Adesso No 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 Ma Zaro Desso Bravissimo! E mori mortati tua! No! Mamma mia! Primo tentativo incredibile! E mori mortati! 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 E niente! Ci vediamo alla prossima! Quando credo uscirà il videogioco completo! Comunque vedo se... Con la demo, eccetera, eccetera! Perché adesso mi sa che se schiaccio A Devo rifare anche la prima! Giusto? Vediamo un po'! Esattamente! Devo rifare anche la prima! Esattamente!